Ciao ragazzi, benvenuti sul canale Planet Spin Fishing, benvenuti a questo nuovo video. Oggi parliamo di pesca a spinning in mare e in particolare andiamo a scoprire la stagionalità dei pesci predatori. Per i pescatori già più esperti che hanno anni di esperienza sicuramente avranno notato una certa periodicità nelle catture di determinate specie di predatori, ma per dare un suggerimento, un consiglio, una mano a coloro che da poco si stanno avvicinando alla pesca spinning in mare o che vorrebbero avvicinarsi a questa tecnica di pesca, diamo delle indicazioni su quelli che sono i mesi ideali dove aumentano le possibilità di effettuare delle catture di determinate specie di predatori. Allo stesso modo ci faremo aiutare da alcuni slide, alcuni documenti che ho realizzato a supporto di questo argomento per facilitare la comprensione di questo argomento dove spieghiamo anche il tipo di esca artificiale da utilizzare per lo specifico predatore e anche il tipo di recupero. Questo video è un approfondimento alla guida, al manuale che ho già realizzato ed è disponibile sullo shop Amazon sia in formato cartaceo che ebook. Lascio il riferimento o link per un eventuale acquisto direttamente nella descrizione di questo video e ricordo che l'acquisto di questo manuale è l'unico modo per supportare il canale e soprattutto questo progetto. Andiamo insieme dopo la sigla. Allora partiamo subito con questa slide in cui ci sono gli argomenti di cui trattiamo in questo video. Iniziamo con l'identificazione delle variabili da considerare nel nostro calendario e poi ci sono due altri approfondimenti che faremo in merito al calendario, suddividendo l'annualità in due parti, una che va da gennaio fino a giugno e l'altra da giugno fino a dicembre. Poi insieme capiamo perché ho suddiviso il calendario in due parti principali. A seguire parliamo di predatori e soprattutto delle esche artificiali da utilizzare per insidiare questa tipologia di specie e anche il recupero più adatto. Infine nella parte finale del nostro video facciamo anche un approfondimento per quanto riguarda i tre principali predatori a cui possiamo destinare le nostre battute di pesca quindi la spigola, il serra e il barracuda e per ogni predatore facciamo un'analisi sull'attività annuale facendoci aiutare da un grafico realizzato per ogni specie. I pescatori più esperti sanno bene che per un certo modo il mare può essere confrontato alla terra. In tanti dicono il mare è come la terra. Questo che cosa vuol dire? Che come esistono alcune specie di frutti che maturano sulla terra in un certo periodo dell'anno, una certa stagione allo stesso modo succede anche per il mare dove si avvicinano maggiormente alla costa oppure c'è maggior presenza di alcune specie di pesci invece di altre seguendo quello che può essere anche il periodo dell'anno, la temperatura e tanti altri fattori che consideriamo in questo specchietto indicato come variabili. Le principali variabili da considerare sono a secondo della mensilità quindi del periodo dell'anno in cui siamo anche l'orario di pesca definendo quindi alba e il tramonto allo stesso modo perché si tratta di due cambi di luce assimilabili tra loro. Inoltre possiamo definire il giorno e la notte come orario da preferire nelle nostre battute di pesca perché alcuni predatori sono maggiormente attivi durante le ore diurne altre invece entrano maggiormente in attività durante le ore notturne. Un'altra importante variabile da considerare è soprattutto lo spot, l'habitat in cui noi praticheremo, svolgeremo le nostre battute di pesca. Li ho assimilati per l'ennesima volta per evitare di allungare troppo il nostro calendario delle variabili e quindi li ho assimilati anche per tipologie di predatori che possiamo incontrare durante le nostre battute di pesca in questi spot. Li ho messo insieme scogliera e porto e foce e spiaggia perché in tante occasioni soprattutto in merito alle mie esperienze ho potuto accomunare i risultati in pesca. Per quanto riguarda i predatori invece ho inserito quelle che sono le specie maggiormente insidiabili nella pesca spinning in mare sia dalla costa ma anche da una piccola imbarcazione come il kayak, il belly boat o una barchetta. Inoltre altri due fattori importanti da considerare raggruppati in una slide dedicata sono le esche artificiali destinate alle tipologie di esche artificiali destinate al predatore che decideremo di insidiare e anche il tipo di recupero ideale per catturarlo. In questo schema ho identificato quelli che sono i risultati delle variabili da considerare e li vediamo insieme facendo un esempio. In questo caso ho inserito da gennaio a giugno come periodo dell'anno, come mensilità in cui noi andremo a pesca. Scegliamo una fascia oraria, ad esempio alba, andiamo a fare un'alba nei pressi di una spiaggia e il predatore che maggiormente possiamo incontrare nelle nostre batterie di pesca è principalmente la spigola o il serra che a sua volta possiamo definire meglio come mensilità da aprile maggio in poi. Quindi utilizziamo questo schema per, a seconda della mensilità, dell'orario della giornata, dello spot, capire la tipologia di predatore che noi maggiormente potremmo incontrare nelle nostre battute di pesca. Allo stesso modo ho realizzato lo stesso schema però con le mensilità che vanno da giugno a dicembre e utilizzeremo sempre lo stesso schema. In questo caso noi siamo a luglio, vogliamo fare una pesca diurna, quindi l'orario della giornata sceglieremo giorno, destiniamo la nostra battuta di pesca a una scogliera, per esempio, e capiamo quali sono i predatori che possiamo trovare a luglio pescando di giorno nella categoria dei predatori ho inserito la spigola, il serra, la lecciamia, la lampuga, facendo un approfondimento in questo caso descrivendo da agosto a dicembre perché questa tipologia di pesce, di specie, di predatore, aumenta la sua attività, la troviamo maggiormente nel sottocosta, nei mesi più caldi da agosto fino a dicembre. Ecco, questo è uno schema che possiamo utilizzare per renderci conto di quelle che sono principalmente le prede a cui destinare le nostre battute di pesca. In questa scheda, invece, ho inserito, a seconda del predatore che noi decideremo di insidiare o che magari potremmo trovare nelle nostre uscite di pesca, anche la tipologia di esca artificiale consigliata per la sua cattura e il relativo tipo di recupero. Facciamo un esempio, noi vogliamo andare a pescare il barracuda, quale esche artificiali sono ideali per la pesca del barracuda, vi metto quelle che sono le mie esperienze in merito e quindi io se devo andare a pescare il barracuda lo pesco principalmente con long jerk, top water, quindi WTD o needle e poi possiamo utilizzare le soft bait, quindi mediazioni di gomma o le vibration bait. Che tipo di recupero è consigliato per la pesca del barracuda soprattutto quello lento, quello stop and go, per esempio, o quello cercato. Lo stesso metodo può essere utilizzato per andare a trovare quelle che sono le indicazioni base per insidiare gli altri predatori che noi abbiamo la possibilità di pescare negli spot a noi congeniali. Ripeto sempre la stessa cosa, queste sono delle indicazioni di massima, quindi valide un po' per tutte le regioni d'Italia, però capiamo bene che ci possono essere delle caratteristiche legate all'habitat in cui siamo, quindi molte cose che possono valere in territori come la Sardegna potrebbero non essere allo stesso modo validi nelle regioni del Veneto per esempio, per cui ecco dobbiamo sempre prendere queste indicazioni come dei riferimenti a cui puntare, ma non sono delle formule matematiche precise al 100%, si tratta principalmente di esperienze personali, soggettive. In queste tre ultime slide invece ho inserito quelli che sono gli andamenti durante l'anno per far comprendere meglio la stagionalità di alcuni pesci predatori che noi maggiormente possiamo insidiare nel sottocoste italiano e ho fatto un approfondimento in merito alla spigola, al serra e al barracuda. In questa scheda dedicata alla spigola vediamo che da gennaio a febbraio c'è un'alta probabilità della presenza quindi nelle nostre battute di pesca di poter catturare la spigola andando verso i mesi più caldi e quindi andando da febbraio verso maggio giugno e luglio le probabilità diciamo diminuiscono c'è sempre la possibilità di riuscire a catturare qualche qualche spigola però ecco è minore rispetto ai mesi più freddi. In questa scheda invece vi mostro quelle che sono le attività l'andamento durante l'anno della presenza del pesce serra lungo le coste italiane soprattutto lungo le coste che io pratico quindi in campania partendo da gennaio febbraio c'è un aumento nell'attività del pesce serra che raggiunge il suo picco nei mesi più caldi che vanno da maggio fino ad agosto settembre ovviamente dipende anche un po dal clima che abbiamo durante l'anno perché in questi ultimi anni abbiamo visto un repentino cambiamento del del clima rispetto agli anni precedenti dove c'era una media costante in graduale aumento invece in questi ultimi anni notiamo che ci sono degli sbalzi termici davvero importanti anche all'interno della stessa stagione infatti in periodi come la primavera possiamo avere giornate di 20 gradi e giornate di 3 gradi quindi non c'è più quella costanza che c'era un tempo ma gli sbalzi climatici attualmente ecco mettono sempre in discussione quello che è l'andamento meteorologico durante l'anno rispetto alle costanti degli anni scorsi precedenti in questo ultimo grafico invece facciamo un'analisi della presenza del barraguda lungo le coste italiane durante l'annualità anche in questo caso da gennaio in poi quindi mesi freddi aumenta la presenza del barraguda quindi la possibilità di effettuare delle catture di questo predatore arrivando al suo culmine ai mesi di aprile e maggio un altro picco dopo la diminuzione nei mesi estivi sia verso settembre ottobre anche in questo caso ripeto si tratta degli andamenti legati anche ai fattori climatici che possono variare secondo gli anni però ecco secondo le mie uscite in pesca e secondo anche quelle che sono le indicazioni fornite da altri pescatori nel posto del posto questo è un po l'andamento durante l'anno allora siamo arrivati alle fasi conclusive di questo video che è dedicato principalmente a chi da poco si sta cimentando vorrebbe cimentarsi nella pesca a spinning in mare per dare delle indicazioni base spero che questo video vi sia piaciuto se così fosse lasciate un like non vi dimenticate di iscrivervi al canale per restare aggiornati con i prossimi inserimenti e sfruttate la possibilità di commentare questo video per fare eventuali domande o degli approfondimenti in merito ringrazio tutti voi per la visione noi ci vediamo il prossimo video come sempre un saluto da luigi a tutti gli amici di planet spin ciao ragazzi